Una bella mattina di primavera ed un sole caldo e luminoso hanno accompagnato la cerimonia con cui il gruppo di protezione civile di Taranto ha voluto ringraziare il personale sanitario impegnato nella campagna di vaccinazione dei cittadini anziani, avvenuta presso la neosede della facoltà di medicina e chirurgia. Il personale sanitario di questa struttura che accompagna gli anziani per queste vaccinazioni, così come noi facciamo all'ingresso fino a che debbano ovviamente essere vaccinati, è il riaccompagnamento all'uscita. Queste immagini davvero ci hanno colpito. I volontari della protezione civile di Taranto che hanno supportato il personale sanitario accompagnando gli anziani ultraottantenni al momento della vaccinazione hanno reso omaggio al lavoro, alla professionalità ed al grande senso di umanità che hanno caratterizzato l'opera dei sanitari. La consegna di una colomba pasquale è un gesto simbolico con cui esprimere la stima e la riconoscenza di una città intera. La visione civile di Taranto non è soltanto raccolta di viveri o di tablet ai ragazzi o aiuto diretto alla popolazione, è anche cultura del sapere e anche gentilezza nei confronti di chi è stato tanto vicino a chi ha bisogno. Ma le mani si sono unite in applausi reciproci a testimonianza di come sia stata in realtà la stretta collaborazione tra personale sanitario e volontari ad aver reso possibile la vaccinazione di circa 6.000 cittadini anziani. È una grande espressione proprio di solidarietà di questa città e una rinascita anche di fronte al covid che sta colpendo comunque sia le nostre vite. La protezione civile annuncia ai nostri microfoni la sua prossima missione. Stiamo raccogliendo delle donazioni per l'ambulanza, siamo fieri di poter dare e dotare a Taranto una nuova ambulanza e tra qualche giorno, tra qualche settimana sicuramente l'ambulanza sarà una realtà.